Adesso il collega Baroni. Prego. Grazie, Presidente. Mi fa piacere che in quest'Aula si parli anche di tragedie. In queste tragedie voglio ricordare al deputato Fiano. Io sono una di quelle persone che ha letto Se questo è un uomo tre volte. Probabilmente il deputato Fiano non sa o non ricorda che il motivo e la ragione per cui Primo Levi si suicidò fu dopo la stesura del suo terzo libro, il cui titolo era I sommersi e i salvati. Tutti i critici sono unanimi nel fatto che c'era un particolare capitolo in questo libro e questo libro, in questo capitolo, si intitolava La zona grigia. Ebbene, era in questo jacuzzi alla società di quel tempo, di tutta quella classe dirigente di indifferenti che non faceva nulla, nulla per prendere posizione, mai sulle questioni. E qui dentro, in Italia, in questo momento, i sommersi sono i cittadini italiani e i salvati è questa classe dirigente che ha la P2, che sta al Senato e alla Camera, per cui non fate elezioni a nessuno. Allora, prima di tutto, si rivolga alla Presidenza. Grazie. Colleghi, colleghi, per favore. Va bene? Colleghi. Grazie mille. Allora, collega Barone, si rivolga alla Presidenza. Ah, finito. Va bene.